La bordata di Plotinsky ricevuta da Viskiba, poi Mahara insacca in controtempo. Dimmerman per Mahara, pala molto staccata, va a segno il canadese, 4 a 3. Mahara invece in parallela continua a imperversare. Perché in tratto Cardenas in battuta, Mahara chiude subito il cambio palla. Lo spettacolo sta aumentando, le due scale stanno difendendo tanto, la ricezione ancora di Federici sulla testa di Zimmerman, poi Mahara in diagonale, strettissima. Palla corta con l'aiuto del nastro da Viskiba, la pipe di Mahara, davvero ben giocata. Il campo, Mahara, trova l'Ace, spolverando l'incrocio delle linee. rispettacolo da Viskiba landino